Buongiorno, siamo alla Marinella. Oggi finalmente iniziano i lavori per la rigenerazione del borgo. Dopo anni passati per intercettare il finanziamento prima, avviare e concludere la progettazione, conferenze di servizi, che ad appalto finalmente oggi diamo il via dei lavori importanti che daranno un nuovo volto al nostro borgo con la realizzazione di un solarium, la realizzazione di un punto d'approdo, il ripristino della viabilità, comprensiva anche dei sentieri che saranno completamente riqualificati. Sono altresì in corso, come avrete già notato, i lavori di ristrutturazione del teatro alla Motta, conclusi da qualche settimana invece il lavoro di messo in sicurezza del Costone. Adesso finalmente possiamo dare il via a questi importantissimi e tanto attesi lavori. Finalmente, quindi tra qualche settimana, o meglio, tra qualche mese, avremo la nostra bellissima Marinella con una nuova vita, finalmente accessibile a tutti, in sicurezza e pienamente fruibile.